Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 1 Roma-Napoli, dalle 22 di stasera alle 6 di domani, per lavori è chiuso lo svincolo Caserta Nord in uscita in direzione Roma. Per i veicoli provenienti da Napoli, l'uscita alternativa consigliata è lo svincolo Caserta Sud. Sulla 2 del Mediterraneo, da oggi fino al 26 di gennaio, è attiva la riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite Contursi e Sicignano degli Alburni e verso Salerno. Sulla 3 Napoli-Salerno, dalle 22 di stasera alle 6 di domani, per lavori è chiuso al traffico il tratto compreso tra gli svincoli Cava dei Tirreni e Salerno in direzione Salerno. Sulla strada statale 7 Quater-Domiziana, fino alle 17 di mercoledì 28 febbraio, per lavori è attiva la riduzione di carreggiata tra le località Baia Domizia e Mondragone in direzione Napoli. Sulla tangenziale di Salerno, dalle 22 di stasera alle 6 di domani, per lavori è chiuso il tratto compreso tra le uscite Sala Bagnano e Fratte in direzione Fratte. Per la redazione Muoversi in Campania, Rossella Altamura.